Sono Dario Colasanti, frequento il liceo scientifico statale Teresa Gullace a Roma. Siamo venuti qua per aver vinto il bando organizzato dal comitato, con la realizzazione del nostro lavoro multimediale. Siamo qui da ieri, abbiamo partecipato a tutte le attività dall'inizio proprio di ieri ad adesso, abbiamo venito da poco, e è bellissimo perché si conosce gente, si trattano tematiche che molto spesso vengono lasciate in disparti. Io penso che proprio una delle missioni del comitato è dire il non detto, quello che viene bypassato soprattutto dai telegiornali e dai mezzi di divulgazione che abbiamo oggi, perché si fermano a dei numeri, a delle informazioni che non sono sufficienti a trattare un tema importante come l'immigrazione. Ci sono molte scuole provenienti da tutta Italia, con le scuole partner provenienti da tutti i paesi europei. Abbiamo fatto i seminari questa mattina, sono stati fantastici, il personale è stato ottimo, ci hanno raccontato delle cose che forse trascuriamo troppo, soprattutto in Italia. Allora, io penso che maturerò molto dopo questa esperienza, perché farò una riflessione maggiore su argomenti che comunque mi sono sempre stati vicini, e su cui sono sempre stato attivo, però è un'esperienza unica, perché c'è proprio un incontro di culture e di persone che vogliono fare qualcosa per eliminare questa indifferenza che c'è sull'argomento dell'immigrazione.